In questa puntata di Unicam News, nuovi sentieri di sviluppo dell'Appennino marchigiano, i quattro Atenei marchigiani insieme per una ricerca voluta dalla Presidenza del Consiglio regionale. Lo spin-off Unicam Eco Design Lab tra le 100 Italian Circular Economy Stories. Unicam ed Enea insieme per un convegno sulla ricostruzione. Dalla storia al recupero, un convegno sull'antica via romano-lauretana. Bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi i titoli li abbiamo sentiti, ma vediamo subito il primo servizio. Sono stati presentati nei giorni scorsi all'Università di Camerino i risultati del progetto di ricerca Nuovi sentieri di sviluppo dell'Appennino marchigiano, condotto dalle quattro università marchigiane e promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche. In sei mesi i ricercatori coinvolti, coordinati dal professor Massimo Sargolini, docente Unicam della Scuola Architettura e Design, hanno redatto un atlante dettagliato del cratere, ascoltato 85 sindaci e formulato 11 proposte per la ripresa delle aree interne. Noi non ci siamo addentrati nei temi stretti della ricostruzione edilizia, non ci compete, non era questo l'obiettivo, però riteniamo che per operare una ricostruzione intelligente e soprattutto finalizzata poi a un reinsediamento delle comunità, era necessario trovare delle modalità nuove anche di insediarsi in questi luoghi. Questo chiaramente è un tema che la Regione deve poi affrontare nella concretezza tipica della Regione e quindi significa che c'è un confronto immediato, secondo me, con la Giunta regionale che pure sta lavorando a una raccolta ordinata di progetti per capire come in questi grandi filoni, in questi grandi assi che noi abbiamo individuato si innestano quei progetti ritenuti anche utili e soddisfacenti per questo obiettivo da diversi stakeholder che io so la Giunta ha già contattato. Sono dieci sentieri di sviluppo tutti importantissimi che indicano prospettive fondamentali per il rilancio di questo territorio, dall'agroalimentare alle energie rinnovabili, dal servizio alle persone al Made in Italy e tante altre piste. Io credo che sarà poi a noi, agli amministratori e a tutte le forze sociali individuare quelli che sono i progetti più percorribili e più utili per la nostra comunità. Uno stimolo per la Regione, io spero che questo lavoro si possa allineare con il lavoro che sta portando avanti la Giunta relativamente al patto per lo sviluppo. Credo che comunque questa ricerca la porteremo presto in aula, sotto forma di atto amministrativo comunque da approvare alla luce del dibattito poi dei consiglieri regionali. Io vorrei ringraziare l'Università per il lavoro svolto, perché è un lavoro importante e fatto in perfetta sinergia nel rispetto pieno dei tempi. E vorrei anche ringraziare i sindaci per la collaborazione che hanno mostrato una collaborazione sempre attiva in questo periodo. Ancora un grande successo per gli spin-off e start-up dell'Università di Camerino. Lo spin-off Unicam Eco Design Lab SRL, presieduto dalla professoressa Lucia Pietroni, docente della Scuola di Architettura e Design Vittoria, è stato inserito tra le 100 Italian Circular Economy Stories di Enel e Fondazione Simbola. Lo studio vuole dare voce ai tanti progetti ed iniziative del nostro paese che sono all'avanguardia, che sono sostenibili, competitivi, che praticano forme di uso efficienti, intelligenti e innovative della materia, che sostengono la Green Economy e l'economia circolare. Essere inseriti tra le 100 eccellenze italiane dell'economia circolare, ha sottolineato la professoressa Lucia Pietroni, rappresenta per noi non solo una grande soddisfazione per il lavoro svolto, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso. Quando si parla di circolarità si parla necessariamente di Eco Design, quella progettazione che tiene conto dell'intero ciclo di vita dell'oggetto, dalla funzionalità nell'utilizzo alla necessità di disassemblarlo nelle sue componenti minime per l'avvio al riciclo. Ricostruzione, tecniche e tecnologie antisismiche, conservazione e sicurezza. Sono stati questi i temi chiave trattati nel corso del convegno ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologia di elevata sicurezza sismica, che si è tenuto nei giorni scorsi presso l'auditorium a Benedetto XIII dell'Università di Camerino. L'evento, che è stato organizzato in collaborazione tra Università di Camerino, Enea Comune di Camerino, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, Ordine degli Architetti della Provincia di Macerata, Ordine dei Geologi della Regione Marche, era rivolto in particolare ai professionisti del settore, ingegneri, architetti, geologi, geometri ed amministratori interessati agli aspetti di ricostruzione ad elevata sicurezza sismica. Obiettivo è stato quello di fornire informazioni sulle più moderne tecniche antisismiche capaci di assicurare efficaci interventi di miglioramento e adeguamento sismico per il pieno recupero del patrimonio edilizio. I lavori si sono aperti con i saluti delle autorità, ai quali sono seguiti interventi di rappresentanti istituzionali e degli ordini professionali, mentre gli interventi tecnici si sono avvalsi anche di esperti del settore. Nei giorni scorsi la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino ha ospitato una giornata di studio e di approfondimento su un tema di grande interesse, il recupero e la valorizzazione dell'antico tracciato che collegava tra Medioevo ed Età Moderna ben tre regioni, Lazio, Umbria e Marche, e nello specifico la capitale della cristianità e il santuario lauretano. La sessione storica, incentrata su ricerca e territorio, ha illustrato le fonti e gli itinerari emersi da un'accurata ricerca storiografica, oltre a preziose mappe tedesche del Quattrocento e del Primo Cinquecento. Molto interessante la testimonianza del padre guardiano del convento di Renacavata, posto lungo l'antica via e luogo di rinascita dell'Ordine dei Cappuccini. Costituiscono parte attiva del progetto amministratori umbri e marchigiani. Nella sessione pomeridiana, infatti, sono intervenuti alcuni assessori e sindaci in rappresentanza di tutti i comuni coinvolti. Le considerazioni conclusive sono state affidate a Claudia Lanari, funzionario responsabile dei cammini della regione Marche. Bene, io mi fermo qui per questa puntata di Unicam News. È tutto, l'appuntamento torna mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, e vi ricordo che tutte le notizie e le informazioni sull'Università di Camerino sono disponibili sul nostro sito internet www.unicam.it. A tutti voi grazie per essere stati con noi e buon proseguimento su TV Centromarche.